Buongiorno a tutti, siamo qui alla Ferrari Cigarini, all'Academy, dove ci sono un po' tutte le macchine esposte, ma vogliamo parlare con Riccardo Pieroni, che è il General Manager di Ferrari Cigarini, in particolare di una nuova macchina per le grandi raste. Puoi spiegarcela, puoi farci capire di che cosa si tratta? Benissimo, grazie. Intanto è un controllo numerico ai 5 assi interpolati, la possiamo definire meglio in Maranerno, nata appunto nel comprensorio ceramico per le grandi raste ceramiche. Perché dico questo? Perché è una macchina che tecnicamente è stata studiata per affrontare tutte quelle caratteristiche tecniche, estetiche, di produttività e di qualità che riguardano proprio il prodotto ceramico. Cosa voglio dire con questo? Che la struttura della macchina ha delle caratteristiche speciali, quale una compattezza molto elevata, un monopropo, una testa motore che prevede sia il taglio che la fresa, quindi un gruppo motore molto importante e molto compatto, l'asse verticale della macchina molto vicino al piano di lavoro, questo per evitare qualsiasi tipo di vibrazione. E molto importante anche la possibilità di ricicolare l'acqua interna, per chi non volesse, diciamo, avere dei lavori straordinari a pavimento, quindi la possibilità di far ricicolare l'acqua interna delle decantazioni della macchina. In più, naturalmente, è fornita di fotocamera per la rinnovazione di tutti i posizionamenti delle lastre, la possibilità di lavorare sia a ordomacchina, un software di ultima generazione, sia all'interno dei pianti produttivi, per quanto riguarda appunto anche il 4.0. Ancora una volta, in più, diciamo così che la parte tecnica dell'utensile è prevista proprio, la grandezza dell'utensile è prevista proprio per stare nei formati che vanno appunto dai 3 mm ai 20 mm. È molto importante anche questo per dare una certezza, diciamo così, della qualità del taglio. E che cosa si realizza con questa macchina in particolare? In particolare, grazie per l'appoggio, si realizza quello che vedete qua davanti a me e dietro di me, quindi tutta la lavorazione dei prodotti che danno valore aggregato alla lastra, naturalmente sottomulti, prima soprattutto i top vanity top e i kitchen top. Poi di lì tutto quello che viene chiamato arredo urbano o arredo interno domestico e naturalmente anche quello che viene tra le mie spalle che possono essere i gradini, i gradoni, le varie scale e anche quelle che sono sedute. Oggi da parte, diciamo così, di home design, di tiber design fa la parte del leone, le ceramiche riusciamo bene e noi siamo qua per questo. Perfetto. Quali sono i vantaggi di questa macchina rispetto a quello che si conosce sul mercato? Diciamo appunto che sendo una made in Maranello nasce proprio dall'esperienza di portare alla massima affinità possibile con la ceramica il prodotto tecnico. Quindi cercare di eliminare anche quelle, diciamo, le indondanze della macchina che proviene dal marmo o dal quarzo e di focalizzarla proprio sulle richieste tecniche di qualità del prodotto stesso. Un po' quello che anticipavo prima nelle caratteristiche generali della macchina. Possiamo invitare allora le persone che sono interessate a venire a presso la Ferrari Cigarini per vedere questa macchina? Assolutamente, dobbiamo invitare e speriamo che con il tuo aiuto possano venire numerose e anche frequentemente vi danno. Perfetto, grazie ancora. Grazie mille, grazie. Grazie.